Pronto Sara? Ehi, ciao cara, ma che mi racconti di bello? Niente. Ah ok, senti domani che fai? Niente. Ma stai a casa? Niente. Vabbè ho capito, ciao. No aspetta aspetta, devo dirti una cosa importante. Dimmi, dimmi. No, niente. Vabbè Sara, se da me sparte, scappi. Sono sparata da voi.